Sarà firmata domani la dichiarazione di Pestum, documento strategico che si pone l'obiettivo di tracciare le linee guida per dare vita ad un distretto culturale turistico. La sottoscrizione avverrà al termine della due giorni di incontri e di tavoli di lavoro, in programma oggi e domani a Capaccio Pestum, in collaborazione con la Regione Campania, la Fondazione Gian Battista Vico e l'Associazione Club Giuristi dell'Ambiente. Nella due giorni saranno impegnati i più importanti giuristi e studiosi delle dinamiche relative alla cultura classica e ai distretti culturali, turistici e dei siti UNESCO.